Ciao ragazzi, oggi è una notizia pazzesca, è la seconda volta che registro questo video perché l'ho registrato ma il microfono è spento, quindi lo sto riregistrando, quindi prima ero molto, insomma, eccitato perché è veramente una grande notizia per gli youtuber perché praticamente Rumble, che è una piattaforma partner di YouTube, cioè è un sito dove potete caricare video e potete avere l'opzione creator di video, quindi potete avere video monetizzati da subito senza avere iscritti, quindi potete avere subito tutti i video monetizzati con la pubblicità e poi c'è questa nuova opzione YouTube Channel Sync, cioè voi cliccando qua collegate il canale tramite la Gmail, il vostro canale, poi dovete mettere Rumble Only, non esclusibile, similar to YouTube, praticamente vi porta i video di YouTube su Rumble monetizzati subito anche se non avete i 1000 iscritti e le 4000 ore, quindi avete subito la monetizzazione dal giorno 1, però ovviamente ci vuole un po' di tempo, ecco qua, vedete sta iniziando a caricare i video, ci vuole un po' di tempo per caricare tutti i video, monetization vedete, quindi questo qui ho provato un anno fa a caricarlo io questo e come potete vedere alla pubblicità anche se adesso non è partita, però qua vedete questa qui è pubblicità, quindi questo video è monetizzato e ho solo un follower, quindi praticamente avete la monetizzazione dal giorno uno, quindi io mi stavo informando su questo Rumble, anche quanto si guadagna, se si guadagna meglio di YouTube, alcuni dicono che c'è un CPM più alto di YouTube, quindi mi devo informare di più, però oggi ho fatto io YouTube Channel Sync, quindi tutti i miei video, io ne ho 1400, li trasferisco su Rumble e ho la monetizzazione subito, quindi lo consiglio a chiunque anche nel gruppo Telegram, quindi anche a te Roberto, Emanuele, tutti quanti, perché comunque è come avere due canali YouTube che hanno lo stesso, ausilia anche due canali YouTube che hanno gli stessi video, ma separati però che fanno crescere entrambe i follower e con la monetizzazione dal giorno 1, quindi è molto intelligente, vi lascio il referral sotto il video, e quindi spero che questa sia una svolta per tutti quelli anche del gruppo che stanno cercando di avere un guadagno passivo, perché questa è un'altra novità grande che forse non si sa ancora, comunque dalle nostre parti in Italia, quindi ci vediamo alla prossima, ciao!